La Rocca Malatestiana di Fanno si arricchisce di nuovi progetti, questo grazie a diverse nuove esposizioni ed installazioni che sono state presentate in conferenza stampa. Il programma che è in corso alla Rocca Malatestiana prevede otto nuove mostre, cioè una modalità espositiva nel campo dei linguaggi del contemporaneo, perché la Rocca Malatestiana ha la bellezza di unire l'antico e il nuovo e in questo spazio dove saranno effettuati molti concerti, molti eventi che possono dare lo spazio ai giovani in particolar modo, abbiamo pensato che nel salone dell'esposizione possa essere continuativa la proposta di mostre a livello internazionale. E' qui che gli artisti si misureranno con lo spazio, perché in effetti si parla di un atelier, non solo di un luogo dove verranno poste delle mostre che possono essere di carattere temporaneo, ma qualcosa che si fonda con la struttura stessa, tanto è che in questo spazio verrà creata una cultura generale dello spazio architettonico e verrà realizzata proprio all'aperto una scultura teatro che diventerà poi palcoscenico ed è questo il segno dei linguaggi contemporanei perché così si dà la possibilità di far vivere direttamente l'opera d'arte.